buonasera ragazzi ecco facciamo un altro piccolo unboxing sposto in micro oroni che oramai è libero sinceramente vi dico subito che non so che cosa contiene questo pacco ho fatto degli ordini da su ebay vengono dalla cina ma sono passati per l'olanda questo invece viene dalla germania il numero di tracking non corrispondono ma probabilmente è stato doganato nel nord europa esatto e come pensavo perché dalle dimensioni è quello che pensavo è un piccolo reddott ora innanzitutto voglio far notare la grande similitudine di questa scatola che lo contiene con la scatola dei piccoli reddott aomechi che presi su amazon e che anche quelli erano fatti in cina anche la forma descrittiva dell'oggetto come è impostata l'impaginazione ovviamente sono diversi apriamo la c'è un proprio gomma piume c'è ben ben confezionato il reddotto viene coperto da un cappuccio non so se quello si è quello formasi molto simile il reddotto il reddotto secondo me ho dei vaghi sospetti sulla provenienza confezione di silica gel per assorbire umidità una batteria una piastrina di montaggio su qualche arma credo che sia per le glock in generale le danno tutte per le glock tutta una serie di un set di viti una chiavetta questa è la prima volta che mi danno queste chiavette piatte che servono per aprire il vano batteria c'è dell'altro sotto la gomma piuma abbiamo come si dice una pezzuola di pulizia per la pulizia della lente e manuale di operazioni vuol dire un foglietto un foglietto dunque non è questo questo vediamo che variante ecco cade il reddotto dunque 1000 g 20.000 ore di durata la batteria sarà al minimo sicuramente due moa funzione shake away cioè lo scuoti e si accende compatta disponibile nella regolazione in brandeggio e deriva in alza e deriva con dimensioni compatte e peso leggero questo sia un numero un codice a barre a 4212 mini j h03 non è nessuno di questi credo che siano più o meno uguali cambierà solo la forma esterna vediamo allora non è questo non è questo perché questi sono squadrati questo pure solo piatto questo no dunque un po' questo è questo qua che ha una fressatura piatta sopra qua c'è una piccola fressatura non so che serve allora vediamo se è acceso no non è acceso allora no ho sbagliato innanzitutto questa questa chiavetta è quella che serve a regolare la deriva allora provvediamo innanzitutto mettiamo via quello che non serve questo dentro rimettiamo la gomma piuma scansiamo la gomma togliamo voglio vedere se all'interno c'è già una batteria con la protezione oppure perché gli Aomeki che avevo comprato questo costa un pizzico di più Aomeki che avevo comprato su amazon ecco bisogna dannarsi per aprire vediamo vediamo se riesco a forzare un po' no non si apre e va bene volevo evitare di rompere ma ma allora rompiamo tanto ho altre bustine vuote che non servono a niente togliamo il tutto allora queste viti di diversa lunghezza servono ricicliamo subito subito un'altra bustina ecco queste erano delle patch del retro delle patch queste le tolgo e qui ci metto tutte le viti varie dicevo sono da 8 mm di varia lunghezza e in base vari tipi di attacchi ok posto devo metterlo dentro anche adesso vediamo con quale questa questa è piccola ecco è serrato molto forte io ovviamente ci lascio la piccatini è serrato molto forte la batteria è una 2032 solita quelle classiche per questi oggetti qualcuno usa anche le 16-80 ma più piccole ok ok no non si separa vediamo un po' le istruzioni come mai non si separa ok non dice assolutamente nulla tranne che sia acceso ecco ecco qua io l'ho fatta ora ora possiamo vedere la batteria che è già al suo interno qui forse c'era ci sono due due perne di centraggio i fori per le batterie però a questo punto io rimonto il tutto fatto un lavoro inutile la batteria già c'era era solo al minimo livello ecco questa questa sì questa sono in penombra non vedo uno prima di serrare mettiamo le pare adesso possiamo serrare ok il red dot è abbastanza nitido sì con l'occhio migliore io lo vedo bene lo vedo bene ho un occhio un po' di astigmatico la chiave questa serve per la slitta picatinny ora a questo punto questo qui non serve è solo di ricambio dell'annodata anzi la metto qui prendo la chiave per la picatinny le altre le metto via ecco qui l'oggetto a cui è destinato questo l'avete visto negli scorsi video è una r74 alias ap74 alias ap75 carico 765 browning la sua cinghia d'epoca a cui ho cambiato solamente questi moschettoni e a questo punto monto ecco tolgo gli occhiali da per la lettura per vedere più o meno la distanza qui mi consono il red dot per vedere l'insieme oddio come dicevo ecco è anche uscito dalla guida fare di sera questi lavori non è il caso non è una perfetta luce ambientale ok adesso mettiamo per bene la guida che era uscita del tutto basta che è serrata vedo a che distanza mi sta più consono più o meno qui anche se non c'è una guida più che altro serve non tanto per il punto rosso che rimane lo stesso ma per per non avere la visione periferica dell'ingombro del red dot tanto per capirci qualcosa ok e questa può essere la distanza ideale per il mio occhio per i miei gusti diciamo qualcun altro potrebbe dire no non l'ho preso allora io qui ho bisogno di più luce che non ho perché tardi è penombra ecco adesso adesso l'ho agganciato bene e serro le viti e ecco già le viti è serrate scusate se sono fuori campo ma ecco qua vediamo vediamo come dicevo tolgo gli occhiali di nuovo l'arma è scarica e non ho cartuccio per quest'arma a casa ovviamente vediamo un po' verso la lampada ora si è montato dritto si è agganciato bene si ovviamente il problema è che qui ci sono due agganci no c'è un questo trappola ragazzi tutto questo era un fucile m16 questa è una replica più o meno fedele quindi comunque è posteriormente agganciato bene anteriormente lo stesso e quindi si può andare bene così vediamo un po' si va bene va bene ok va bene questa distanza può andare bene mi avanza anche un po' di spazio anteriore per una micro luce magari qualcosa una mini qualche che sta sotto questo qui dopo due minuti si spegne i due tasti laterali servono più o meno in grande illuminazione questo è questo è ecco questo è l'attrezzo destinato fin dal principio da quando l'ho ordinato adesso sto cercando dove ho messo togliamo tutto tutto ciò che non serve eccolo qua le istruzioni non servono più il sacchettino con le viti e dadi non serve la cazzina la cazzina si mette qua il silica non serve la batteria la metterò da un'altra parte e adesso metto il cappuccio protettivo ecco ho sbagliato questo devo mettere dentro anche questa il bello della diretta direbbe qualcuno ma comunque sia lascio fuori la chiavetta farfalla perchè dovrò attarare le mire tacca di mire e mirino no, quelli sono già attarati proprio il red dot dovrò attarare che non so come e dove sparerà i primi colpi ovviamente no l'insieme tutto sommato non è male rimane alto perchè questo è è un problema dell'arma in sé questo ha il maniglione fisso e quindi per forza di cose deve rimanere così ecco questo è tutto piccolo red dot neanche mi ricordo la marca sinceramente c'era scritto sull'ordine sul buono d'ordine questo è la farfallina per variare l'ingrandimento la deriva e l'alzo perfetta e lo proverò in poligono buona serata ecco 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 ecco